in italia l'ispettorato nazionale del lavoro ha pochi giorni fa definito il lavoro del degustatore un lavoro intellettuale l'avevo sempre detto che siamo degli intellettuali però finalmente c'è qualcuno che lo certifica ovviamente sto scherzando però neanche poi troppo perché è corretto che la degustazione è un lavoro che si svolge col cervello magari non tutti ci pensano perché si dice sempre bisogna avere naso e palato direi anche occhi perché il vino comunque bisogna guardare valutare il suo colore però ecco dobbiamo capire anche che questi tre organi dunque ripeto occhio a occhi naso e palato non sono altro che dei percettori percettori di sensazioni che saranno poi trasmessi a questo processore che abbiamo nel cervello ed è per quello che la degustazione è un esercizio intellettuale perché bisogna farlo col cervello ecco perché la degustazione è una disciplina che si deve studiare e si deve praticare molto assiduamente un po come la musica la musica si puoi avere talento puoi avere le capacità di suonare uno strumento magari senza nemmeno andare a scuola però è meglio se impari la musica e se ti eserciti molto la degustazione è la stessa cosa ci vuole studio ci vuole molto esercizio e ricordatevi siccome è giustamente un esercizio intellettuale dove il cervello deve funzionare il cervello non deve essere diciamo così sotto l'influenza dell'alcol per cui ricordiamoci sempre che quando si fa una degustazione non dobbiamo ingerire il vino da qui la grande differenza tra una degustazione che è una disciplina è invece il piacere di degustare un bel bicchiere di vino